novena immacolata concezione settimo giorno 5 dicembre 2021 nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen vergine purissima concepita senza peccato tutta bella e senza macchia dal primo istante ti venero oggi sotto il titolo di immacolata concezione il tuo divino figlio mi ha insegnato attraverso la sua stima rispetto e sottomissione a te quali onori e omaggi io ti dovrei prestare tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a te attraverso questa novena sei la madre di misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi perché dopo gesù sei tutta la mia speranza con la tua intercessione materna madonna piena di bontà e potere presso il signore ti supplico di farmi ottenere la grazia che ti domando se ciò che ti chiedo non è per la gloria di dio ed il bene della mia anima fammi avere preghiera del giorno o immacolata concezione ti chiediamo oggi con la semplicità dei bambini che distaccati dai beni materiali e rassegnati alle sofferenze camminiamo guidati dalla pratica delle beatitudini verso il regno del cielo così madre mia potremo già su questa terra cominciare a conoscere la gioia celeste e cantare con te magnificat si tu il mio soccorso immacolata concezione e ottienimi dal nostro padre celeste per i meriti di tuo figlio la grazia che ti domando amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te o dio che con l'immacolata concezione della vergine hai preparato al tuo figlio una degna dimora e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia concedi anche a noi per sua intercessione di giungere fino a te in purezza di spirito noi te lo chiediamo per il nostro signore gesù cristo così sia accogliete la benedizione il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amen